Niente ragazzi, non ce la posso fare a registrare questo video una sola volta Mi sono accorta che io parlavo, parlavo, parlavo e non avevo premuto il tastino di avvio della registrazione Quindi thumbs up! Bene, iniziamo di nuovo a parlarvi dei miei prodotti preferiti Come state? State bene? Spero di sì! Eccomi qua con i prodotti finiti appunto di questo periodo, sono un bel po' emisti Tiriamoci subito via il make up e poi passiamo a tutto il resto Quindi, make up, di cosa vi parlo? Tre fondotinta Questo è, me l'ho già parlato, quindi non mi dilungo Il fondotinta Fit Me di Maybelline l'avevo usato l'estate scorsa Poi mi ero messa in pausa perché come vedete è più scuro e non avevo lo schiarente Lo sono andata a comprare di recente E niente, quindi l'ho finito Un buon fondotinta senza infamia e senza lode Pupa, Like a Doll Questo è il fondotinta, quello con l'applicatore a contagocce L'avevo già provato, mi piace tantissimo Il mio è il colore 010 E ve lo consiglio a chi piace un effetto molto bambolina Quindi un effetto comunque coprente, uniformante Sembra un po' liftato A me piace tanto 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 Quindi, dato che mi piaceva così tanto quel tipo di fondotinta Mi sono detta proviamone un altro di Pupa Proviamo un Pupa Active Light Tutto un altro tipo di fondotinta perché comunque è un fondotinta leggero Perfezionatore di pelle E luminoso, illuminante Quindi tutta un'altra categoria Io ho preso il colore 02 Applicatore classico Ragazzi, questo fondotinta è orrendo Ho fatto veramente fatica a finirlo Intanto ossida tantissimo Sulla mia pelle io diventavo gialla barra arancione subito E soprattutto, questo fondotinta mi ha creato tante di quelle imperfezioni Che lo so solo io Quindi no, non mi è piaciuto assolutamente Ve lo sconsiglio e sono sicura che sia lui Perché una volta smesso di usare Non me l'ha più creata Quindi no ragazze, super sconsigliato Altri make up Sopracciglia, questa di Kikola 04 Super consigliata, non mi dilungo, la finisco sempre E questo invece è un esperimento che ho voluto fare È Le Brow Marker Tattoo Effect Pencil Ed è nel colore 04 Vedete che sembra tipo un eyeliner Marrone Non mi è piaciuto Un esperimento fallito Perché comunque quando voi lo andate ad applicare Per quanto sia Comunque non vi faccia l'effetto tatuaggio nero pieno Non è uniforme Rischiate magari che una volta sia super nero Quindi magari qui è super scuro E poi invece per un altro tratto Dovete ripassarci 20 volte per far uscire il colore E poi non scrive assolutamente su fondotinta o correttore Quindi io non mi sono trovata bene E ve la sconsiglio Mascara di Tarte Mi si è addirittura rotto No, un buon mascara Ma per quello che costa Cioè faceva anche un bel effetto Lo scovolino mi piace perché è piccolino Molto intenso Però costa un po' troppo per l'effetto che dà Poi No, anzi Mascara Questa mascara di Wicon è 01 mascara Non mi dilungo perché tanto questo mascara non è più in produzione Credo Era stato fatto per una campagna di violenza contro la violenza sulle donne Ed è fatto in questo modo Qui c'è il mascara Allora a parte lo scovolino orrendo Non so se vedete quanto prodotto prende Qua è largo, cioè più largo dell'applicatore Quindi orrendo Purtroppo non sono riuscita a finirlo Mi dispiace buttarvi ai prodotti pieni Però non ce la faccio E questo invece è un applicatore che mi piacerebbe anche Anche come colore perfetto Ma fa un pastone Cioè è molto denso Va ad afficcicare le sopracciglia Io non riesco ad usarlo L'ho provato Anche non solo su di me No Ultimo ma non ultimo Correttore essence camouflage Full coverage concealer 10 nude È un classico correttore Con l'applicatore Normalissimo Mi piace tantissimo Peccato Peccato Che sia tutto Fuorché un full coverage concealer Questo è un correttore illuminante Che non è full coverage E quindi Ve lo consiglio Se volete un qualcosa di illuminante Leggero A me piace tantissimo E l'ho ricomprato Però se volete qualcosa di full coverage No Assolutamente no Passiamo a Maschere 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 Allora Andiamo veloce Che Anzi Già che ci sono Vi faccio vedere Queste salviettine struccanti Di Sephora Al cocco Queste qua le ha comprato Una mia amica Perché le avevo detto Che Cindy Le aveva consigliate A lei non sono piaciute Infatti le ha date A me Sono piaciute tantissimo Io comunque Non uso le salviette Struccanti Però Mi sono trovata davvero bene Poi A Milano ho aperto il DM In zona Non mi ricordo Quindi ho fatto un po' di scorda Tra Balea Il verde E quant'altro Questa mascherina Peel off Di Balea Assolutamente no Troppo aggressiva Quando tiravate via Il peel off Sembrava di tirarvi via La pelle E invece 11 11 Skin L'ho trovata Nel calendario Dell'avvento Una buona maschera Questa era quella Alloro E mi è piaciuta Però niente di drammatico Cosmo Prof Ho comprato Questa maschera De Cream Shop All'argilla rossa Mi piace L'argilla rossa Tra l'altro La preferisco All'argilla classica Perché la trovo Un po' meno aggressiva Sempre al DM Ho provato questa maschera Sempre di Balea Nera Però in tessuto Quindi molto meno aggressiva Una buona maschera Senza infamia Senza lode Altre due maschere Di Stop and Glory Le ho comprate a Londra L'ultima volta Questa è una classica Maschera in tessuto Idratante Buona Ma non eccellente Invece mi sono piaciute Di più Queste mascherine Che qua avevano Due contenitorini E c'erano delle mascherine Rosa Peel off Un colore stupendo Che mi sono piaciute Perché purificano Veramente bene la pelle Senza tuttavia Essere aggressive Quindi mi sono piaciute Stesso discorso Questa Che è la classica Maschera di Carnie Quella azzurra Purificante La conosco da tanto tempo Fa l'effetto Un po' calore Quando ve la mettete Ma mi piace tanto Poi Maschera labbra Della Yai 6 Una buona maschera Fa l'effetto Un pochino Rimpolpante E idratante Quindi mi piace Ovviamente non aspettatevi Chissà che E poi una delle mie Marche preferite Di maschere Che finalmente Sta iniziando a diventare Più conosciuta Adesso visto che la rivende Anche Sephora Sephora È la Cox Coco Star In particolare Questa maschera È quella per capelli Io l'ho già provata I capelli, mani, piedi e viso Tutte Sono sempre maschere In tessuto E o plastica E niente Questa È una cuffietta Che vi Rigenera i capelli Mi è piaciuta davvero tanto Poi 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 Mettiamo via questa Che sennò mi confondo Allora Ho due prodotti Insomma due prodotti corpo Codalie Me le hanno regalate le mie amiche Queste sono Gommage E Cremacorpo Burrocorpo Al Aiuto Della linea Vino Source Mi sono piaciute tantissimo Ma in particolare Mi è piaciuto questo Ha una consistenza A granita Che non avevo mai visto Con dei granulini Che un po' potete intravedere Anche se è finito Completamente Che grattano benissimo Senza essere aggressivi Ma con la giusta dose Di intensità Mi è piaciuta Tanto 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 Questa combo di prodotti Quindi Assolutamente consigliata tantissimo Molto più Ad esempio Che Questa cremina viso Sempre della Vino Source Che è una crema viso sorbet Quindi più estiva Che non ho trovato Particolarmente efficace Un po' troppo Delicata Per i miei gusti Sembrava quasi Non dico inefficace Però troppo delicata Veramente Poi Viso 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 Aiuto Scusate Mi sono dimenticata Queste cose Allora Detergente viso Allargan di bottega verde Non mi dilungo Ne ho tanti Mi piacciono tutti quanti E idem Maschera purificante Allargilla Al mandarino Sempre di bottega verde Mi piace tantissimo Non le ricompro Solo perché ho Mille mila altre cose E Come vi dicevo Sempre dal DM Ho preso Questo scrub Alla mela verde Scrub viso Alla mela verde E mi è piaciuto tanto È molto delicato Ha una consistenza gel Con qualche granulino Un po' più grosso Per grattare per bene Purifica la pelle Senza essere aggressiva Con una piacevole sensazione Di freschezza L'unico difetto È che è un po' alcolica E Scusate Quando Quando ve lo date sul viso Un pochino si sente l'alcol Quindi se avete la pelle Molto delicata O sensibile all'alcol Ve lo sconsiglio E Ho provato anche Questa acqua termale Di Uriage Che non mi è piaciuta Mentre mi è piaciuto Un po' di più Il suo spray viso termale Però non credo Facciano Ne ho provati di meglio Mettiamola così Ultimo per il viso Io ho provato Questo della Garnier L'acqua micellae È molto famosa Piace a tutti Dranne a me Io sinceramente Non mi sono trovata bene Né con la consistenza Perché è acqua Mi sembra che tiri Non mi sembra una cosa morbida Uniforme E secondo me Non strucca neanche Granché bene Io ragazzi Non so cosa farci Però a me Questo prodotto Non è il peggio Che abbia mai provato Però non mi piace Poi Corpo No Questo non è corpo Ho due bagno schiuma Senza infamia Senza lode Tesori d'oriente E bottega verde Io come vi dico Forse ve l'ho già detto Però io non ho delle grandi pretese Sui bagno schiuma Basta che lavino E che non secchino la pelle Per il resto Io sono piuttosto felice Poi ho Questo che è un profumo Corpo della Della perlie Anche questo senza infamia Senza lode Poi Questi sono prodotti Per capelli Quindi vi li lascio Per ultimi Questi Questi Questo Crema corpo Crema corpo Della specchia sola Al miele Mi è piaciuta Incredibilmente E da specchia sola Fa prodotti Naturali Non so se certificati C'è a comune Ah si Guardate Certificati c'è Quindi proprio 100% Al miele Mi è piaciuto tantissimo Vi idrata veramente La pelle Della nutria in profondità Senza però lasciarvi appiccicose Quindi io ve lo consiglio Assolutamente Da provarlo almeno E poi Ultimi due prodotti Questo vabbè Per le unghie Classica pennina Della Essence Per correggere E questo È un olio Della EOO È una marca Russa Che io compro Al Cosmoprof Tanti prodotti Non mi sono piaciuti Ma questi oli Si è riviso Mi piacciono tantissimi Infatti ne ho già provati Due Ragazzi Ce la posso fare A registrare questo video Dicevo Eravamo arrivati A questo prodotto Love Coil Love Coil È un prodotto Della marca EOO È una marca russa Che io trovo Solo al Cosmoprof Tanti prodotti Non mi sono piaciuti Questi seri oli Oliviso Mi piacciono tantissimo Questo in particolare È For Combined Problem Skin Io ne ho provati Anche altri idratanti E ne ho comprati Due nuovi quest'anno Mi piacciono tanto Non mi dilungo Perché ovviamente Non sono reperibili Facilmente qua in Italia Poi ho provato Sempre questi due prodotti Per capelli Della Elgon Ne ho prese sempre Al Cosmoprof Della linea Imagea Maschera e shampoo Non mi hanno fatto impazzire Quindi due buoni prodotti Ma senza infame E senza lode Stesso discorso Vale per L'olio di Argana L'equilibra Il prodotto shampoo All'olio di Argana Invece mi sono molto Innamorata Diciamo così Di questi tre prodotti Della Nashi Nashi Argana Sono shampoo Balsamo E olietto Conoscevo la Nashi Ma non ho mai provato I suoi prodotti Li ho provati Il Cosmoprof Un paio di anni fa Me ne sono innamorata Perché i miei capelli Sono misti grassi Quindi non posso Usare prodotti Troppo oleosi Ma questo Balsamo Questo shampoo Quest'olio Sono perfetti Li puliscono Lasciano i capelli Lucidi Nutriti E l'olio Dato il suo capello Bagnato Il mio assolutamente Tamponato E poi sfregato per bene Solo sulle punte E sulle lunghezze Mi lascia i capelli lisci Bellissimi Lucidi Che è un effetto Che io non ho mai Normalmente Quindi Super approvato L'ultimo prodotto Ragazze Di cui vi voglio parlare Scusate L'ho nascosto in fondo È Aiuto Aiuto Ho fatto dei danni No È questo prodotto qua Che cos'è Sono dei calzini per piedi Come potete vedere Vanno tenuti su un'ora Ma non sono delle classiche maschere Che cosa fanno questi calzini Dopo 5-7 giorni Vi si iniziano a squamare i piedi Vi inizia a venire via la pelle morta E questo dura un po' di giorni Sono testimone adesso Io non mi fidavo granché L'ho appena fatto E i miei piedi sono bellissimi La pelle che vi ricresce sotto È stupenda Serve soprattutto Per chi come me Ha magari Dei calli O delle parti più dure Soprattutto nel tallone O comunque dove stringono Le scarpe col tacco Io porto tante scarpe col tacco Veramente ragazzi Il piede è come rinato Purtroppo Io so solo che è una marca giapponese Prodotto per Liberta Giappone E rappresentante per l'Europa Biorius Ma non so dove comprarla Quindi se voi lo sapete Fatemi il favore di dirmelo Niente ragazzi Ce l'abbiamo fatta finire il video Io vi mando un grosso bacione Ci vediamo al prossimo Ciao